Madonna del Campanello Palazzo Francia Strazzaroli, Bologna, piazza di Porta Ravegnana Scultura di Gabriele Fiorini La Madonna del Campanello è visibile solo una settimana all'anno, quando la Madonna di San Luca fa visita alla città di Bologna e dal Colle della Guardia si sposta nella chiesa di San Pietro, in via Indipendenza. E' solo allora che il drappo rosso che la copre viene alzato. Per sottolineare questo momento, viene suonato il piccolo campanello che si trova proprio di fianco alla Madonna con bambino. E visto che questa Madonna non aveva un suo nome, i bolognesi hanno fatto volare la loro fantasia e proprio per questo motivo, l'hanno chiamata Madonna del Campanello.